ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi sono qua per farvi un video che mi avete richiesto un sacco infatti mi dispiace tantissimo non avervelo fatto per tanto tempo ma giuro che quando ho provato a farvi il video mi si è tipo tutto sgranato era tutto un po' non a fuoco e sapete che a me le cose fatte a male non piacciono quindi io l'ho cancellato e ora lo rifaccio se non avessi capito questo è il video della mia lip balm collection chi mi conosce sa che sono una pazza di burro cacao cioè ne ho tantissimi tantissimi ne ho sono più di 80 li ho contati quindi metterò nel titolo più 80 e molti sono finiti ovviamente però visto che li colleziono tengo anche i finiti per poter appunto far vedere quale collezioni ho avuto e quali no le marche che più in assoluto mi piacciono sono la maybelline sicuramente di ne ho diverse collezioni e la y lo scena tantissimo poi le altre marche vabbè la bello eos voi vedrete quindi niente cominciamo subito con maybelline questa fu la primissima collezione che io comprai ed era la collezione mamma mia ragazzi io non me ne ricordo più i nomi però era la prima collezione dei babylips e è questa adesso non ci riuscirò mai a farvi vedere che cosa c'era ecco se mi ritengo così forse meglio il primo in assoluto che presi fu questo a la menta che è azzurro ma dentro è trasparente poi le presi due ma io credo anche tre dopo lo troverò da qualche parte alla mandorla questi qua erano buonissimi riprendono ancora e ve lo consiglio un sacco questo qui alla mandorla e buonissimo quindi ne comprai persino due comprai anche questi due allora questo qui come vedete ancora nuovo perché è colorato e non mi piacciono adesso buoni colorati sono in vista che non mi piacciono perché appunto colorano troppo questo qui è tipo i brutti di bosco e non mi piace e questo qui alla pesca lì era color nude non so se si vede ancora però era tipo nude e non mi piace tantissimo se devo essere sincera al 100% e alla pesca appunto era sempre in quella collezione c'era anche questo arancione fatto così alla ciliegia e non l'ho ancora finito perché anche questo è colorato e sembra tipo un rossetto fa delle labbra rossissime quindi questo qua l'unico che mi manca di quella prima collezione è uno tipo verde che era anch'essa la menta ma a me la menta non piacciono infatti si vede da questo questa era la collezione electro ok erano quelli tutti neri con le scritte fluo e infatti questi due non sono ancora finiti perché questo qui verde è alla menta mai usato però lo tengo per collezione anche perché non potrei più venderlo ormai questo qui invece è alla pesca ma come vedete è molto molto fluo e infatti anche questo raramente usato l'odore è anche buono però in questa collezione purtroppo ne ho solo due perché non li usavo ce n'era uno viola uno giallo ma poi uscì la collezione dr rescue di questi baby lips tutti bianchi tutti bianchini con le scritte vedete color pastello e io ho questi qui non so come si vedono però vabbè ho questi e quindi ho finito questo qui a giurrino che era alla menta ma è tipo stanno tutti quanti di mentolo non è la menta normale avete presente il timo il pino quegli odori un po' da montagna ecco sono questi buonissimi non so se li trovate ancora da qualche parte li ho visti però vabbè insomma questi qua e questi qui invece non li ho ancora finiti stesso discorso sono molto colorati e hanno sempre tutto lo stesso sapore quindi è buonissimo però diciamo che poi vedrete perché ho un po' accantonato alla maybelline una collezione fatta da tre baby lips una collezione stiva infatti vedete che i colori sono super super accesi ed erano questi tre questi qua questo qui all'arancio e non l'ho praticamente toccato vedete poi questo qui buonissimo alla forse melone insomma un frutto tropicale un po' così e questo buonissimo alla pesca veramente buonissimo e quindi questi due qua li ho finiti questo no poi sono stata infissa per devo ammettere un po' di tempo con il burro cacao di shaka shaka per chi non la conoscesse è una marca che vendevano non so se era la vendano più non credo burro cacao perché non le ho più provati all'ovs e devo ammettere che qualità scarsissima però al tempo mi piacevano e quindi li comprai questo qui rosa alla fragolina di bosco veramente buono no alla meringa questo qui al cocco buonissimo che mi ricorda la crociera che ho fatto quell'anno perché me l'ero portata dietro vabbè lasciamo stare ricordi strani e nut choc quindi cioccolato buonissimo e panna questo qui azzurro alla panna veramente buono questi qua li comprai allora insomma non ho tutta la collezione però diciamo che non sono particolarmente di una qualità come dire strabiliante ecco quindi va bene così sono letteralmente entrati in fissa con il negozio in se lo scena sono burrosi al punto proprio perfetto e ne ho un sacco infatti ve li stiamo un po' raccattando questi qua sono quelli che ho finito questi qua sono nuovi ne ne ho un pochetto quindi adesso con calma vi faccio vedere gusto per gusto anche perché non fatevi ingannare ma sono praticamente tutti doppioni perché questo negozio non fa tanti gusti ne ha pochissimi quindi sono quasi tutti doppioni come potete vedere sono stata molto in fissa con il cocco ne ho presi quattro questo qui è nuovo quindi vi faccio vedere questo sono tutti trasparenti dentro questa cosa è a loro favore ovviamente in un individuo come me l'autore ragazzi è strabiliante sembra di mangiare una pralina al cocco buonissimo questi qui quindi li ho finiti e questo è nuovo ne avevo anche un altro al cocco questo qui che comprai in una collezione vecchissima era il vecchio packaging questo poi ne ho avuti due alla macadamia con questo packaging in onore delle donne del Guatemala loro fanno molto spesso le edizioni limitate questi qua sono finiti ne ho avuto uno al carité e uno alla vaniglia sempre vecchio packaging questo qui invece è nuovo buonissimo questo qui al carité poi veramente molto molto buono e vi consiglio andare in negozio di provarli tra diciamo quelli ancora nuovi o che non ho usato abbiamo questo qui alla fragolina di bosco che purtroppo è colorato quindi non lo utilizzo e questi qua nuovi in edizione natalizia uno alle bacche rosse questo qui rosso e questo alla vaniglia bianca veramente buonissimi sono nuovi però non li ho ancora usati allora altre negozio che devo dire mi piace mi è piaciuto quindi ve lo consiglio a parte per il fatto che sono un po' secchi questi burro cacao rispetto ad Yves Rocher ad esempio è Bottega Verde Bottega Verde ne ho avuti due al carité che sono ovviamente finiti perché sono buonissimi adesso non vi rifaccio la messa a fuoco tanto sono marroni fatti così dentro sono trasparenti i burro cacao ok poi questo qui me l'ha regalato mia mamma ma lo uso poco perché indovinate un po' è colorato è a pieterosa e questo alla vaniglia nera invece l'ho finito veramente buonissimo era questi gusti sono un po' particolari ma sono uguali alle loro linee di bianca schiuma, shampoo quindi massacandatela le allusate e scoprite anche i sapori dei burro cacao altro di Bottega Verde è questo qui al miele è veramente buonissimo al miele e mille a fiori e niente questo qui è veramente epocale lo avevo in montagna anni 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 fa eppure fa ancora profumo poi altra linea super consigliata l'ala bello ovviamente mi piace l'unica cosa è che fa dei gusti un po' tristi secondo me però vabbè allora quello che mi è piaciuto in assoluto di più è questo a latte e miele buonissimo ah che buono questo qui l'ho preso in Germania me lo ricordo ancora poi ho questo qui nude che ho finito non mi è piaciuto per niente non ha un sapore cioè qua dice che sapeva di no, di niente così ed era color appunto nude anche questo qui poi ho finito questo qui soft rosé che sapeva di pesca barba rosa profumo abbastanza delicato ma anche questo è la rosa non so perché l'ho finito proprio al pelo e invece questi proprio non li ho finiti uno è alla ciliegia e uno è al melone sono così no, watermelon quindi anguria sono un po' così a metà però sarà molto dura forse in estate lo finirò non lo so adesso di sicuro no questo qui proprio non l'ho neanche cominciato e mi sono anche sporcata al naso secondo me questi qui della Chupa Chups non mi sono piaciuti per niente però ne ha fatto regalita mia mamma ma giustamente lei non sapeva magari che fossero di bassa qualità ne ha finito solo uno questo qui giallino che è alla vaniglia ma sono troppo duri e poi anche da musani ora l'odore è già disgustoso invece negli altri si mantiene quindi non mi è piaciuto e inoltre costavano tantissimo tipo 3 euro l'uno così questo qui invece è alla fragola e panna l'odore è anche buono però insomma non l'ho ancora cominciato questo qua rosa è un po' sconosciuta ad esempio ho questi due della Maybelline veramente schifo della Rimmel questi qua cattivissimi che non ho mai cominciato li tengo giusto così per collezione anche questi ma lasciamo stare poi questo qui della marca Himalaya Herbal che l'ho preso in un centro commerciale discreto diciamo niente di che finito ovviamente questo qui non l'ho finito è anche questa la vaniglia miele insomma con i gusti l'ho preso tipo la Tigota era una condizione di Tom & Jerry insomma tipo di un po' spaiati ecco questo è di equivalenza che è una marca che fa i profumi diciamo a prezzo molto molto basso perché sono profumi diciamo copiati e niente me l'ha presa mia zia ed è al cocco noce di cocco e buonino insomma niente di che l'odore un po' forte però anche questi finirò poi questo è buonissimo della Barts & Bees è una marca americana e sa di menta un tolo molto forte assieme a questo che sto usando ora buonissimo della Just è questo qui può ecco calendola e guaiaco è veramente buonissimo il così insomma il beccuccio fatto così mi è piaciuto un sacco e quindi ve lo straconsiglio se vi capita costa un po' ma ne vale la pena poi aiuto la batteria scarica un altro della baby lips era questo che faceva sia da blush sia da burro cacao ma non ho praticamente mai usato è buonino insomma niente di che sempre colorato non so perché li compravo vabbè lasciamo stare e poi questo qui è la marca la vera bio che mi ha preso mia mamma in montagna credo sia senza odore forse al miele non so ma veramente molto molto debole come profumazione giuro ultima scatoletta ultimissima qua ci sono praticamente tutti quelli fatti a dovetto allora partiamo dalle marche diciamo non Eos ho questo qui della Dexe che è molto simile ad un Eos preso in Croazia questo qui di Sephora non so che gusto sia 07 pink bubble gum quindi alla cheekless gomma chiamatela come volete e gli Eos che io ho sono 5 per fortuna ragazzi che non ne ho comprati altri perché poi non le ho praticamente mai usati quindi veramente per fortuna e sono i seguenti allora questo qui verde è alla mela verde e miele me ne è caduto qualcuno comunque questo qui è alla menta il classico azzurro Eos che hanno tutti questo qui era un asastriato era al latte di cocco veramente buono ed è uno dei pochi che ho quasi finito non so perché non mi piacciono ma mi sono scomodi ad aprirle e ciò per chiudere eccetera questo qui bianco è alla vaniglia giallino insomma chiamatelo come volete veramente buono e poi quello che mi è caduto è rosso ed è alla strawberry fragola buonino insomma niente di che ecco queste sono le mie house ma diciamo che ho fatto un po' un errore secondo me a comprarle perché a me non insomma come persona a me non fanno impazzire quindi ecco e niente quindi questa era la mia collezione di burro cacao si li tengo un po' sparsi in realtà con i finiti li tengo qua dentro diverse scatolette io spero che vi sia piaciuta la mia collezione era un video che aspettavate tantissimo adesso prima di farne un altro passerà un altro anno e io vi mando un bacione ci vediamo alla prossima e ditemi qua sotto qual è il vostro burro cacao preferito tra tutti quelli che avete o non lo so e niente ciao ciao